Coimbra 7 ottobre 2010 I am in Coimbra It's October the 7th, 2010, and we have headed into the Patio de Universidad. Questo è il Patio de Universidad, la costruzione centrale dell'Università di Coimbra, qui da dove siamo entrati, dove è ospitata, come è chiaramente scritto a fianco di questa porta, la Facoltà di Diritto. Questo è la facoltà dell'Università di Coimbra, in Portugale. Ci sono tutte le Aule, qui sopra, questa è la famosa Torre dell'Università. Questa è la Torre dell'Università di Coimbra. E questa è la plaza. è una piazza interna che ospita appunto il Rettorato e la Facoltà di Diritto. Questa è la Torre dell'Università di Coimbra. è la Torre dell'Università di Coimbra. La Torre dell'Università di Davanitia di Davanitia d'Altr 130, Questo è il Statue di King, King John III, e questo è il view di Coimbra, and the river, I don't remember its name. Questa è una veduta di Coimbra bassa, che in realtà si stende oltre quel ponte, che si intravede. Non so il nome del fiume. Oggi è molto ventosa, la giornata. E ora, muovendoci fuori, vedremo le altre facoltà. Now, going out, we have a lot of the other faculties, of this pole, in Coimbra. The University of Coimbra. Counts. Three ports. Also one. Hosts, faculties, of law, this faculty, of medicine, of chemistry, physics, and all that The second pole hosts faculty of architecture, while the third one hosts faculty of pharmacy, and a bit of medicine too. Come dicevo, ci sono in Coimbra tre poli universitari, tre poli dell'università. Il primo polo, che è questo, ospita la facoltà di diritto, dove eravamo, la facoltà di lettere, di medicina, fisica e chimica. Il polo due ospita la facoltà di architettura, il polo tre di medicina, di alcune, sì, alcune aule di medicina e la facoltà di farmacia, sostanzialmente. Questa è la biblioteca Gerais. La biblioteca Gerais, che è la biblioteca centrale dell'università, una biblioteca molto grande. E molto grande, ci sono più di 300 mila volumi, molto importante nel Portogallo. Questa di fronte è la facoltà di lettere, che è la facoltà di lettere, del palco dell'università. E di nuovo, questa è la centrale biblioteca di biblioteca Gerais, che è una delle più grandi biblioteca in Portogallo, che ha costato più di 300 mila. E questo, in fronte di la biblioteca Gerais, ci sono le facoltà di lettere. Quiสse come un po' di lettere di lettere. Qui c'è il paio dell'università, che è la facoltà di medicina, questo palazzo ospita la facoltà di medicina a sinistra mentre quest'altro qui in questa prima la ospita la facoltà di fisica e di là quella di chimica informazioni generali sull'università di coimbra è stata una delle prime università creata in europa una delle prime cinque intorno al xiii secolo è stata creata prima a lisbona per essere poi qualche decade dopo spostata a coimbra dove sta tuttora e questo qui a destra è il palazzo della facoltà di matematica this building hosts the faculty of mathematics and that's noticeable from this culture here e visibile insomma dalla riconoscibile dalla incisioni sul sul portone c'è un integrale il tema di pitagora e via dicendo e questa don genius è la statua del sovrano che che istituì la cattedrale l'università di coimbra a re giovanni quella lì è la prigione è il carcere di coimbra a don juan che abbiamo visto in stato prima è dovuta l'opera che stiamo andando a vedere acquedotto romano in lontananza resti da acquedotto romano non dovuti a reccarlo a re giovanni scusate il re carlo non c'entra è dovuto a questo questa è la scalinata monumentale di 150 gradini che venne creata da re giovanni terzero per insomma dopo suppliche al posto di al posto di una pericolosissima salita in pietra io ne ho ho visto prima a fare delle sono le monomontali stelle ce stelle era creato i chung, chung giocchi chung giocchi le chung giocchi era per acciare la città senza più Ancien romans ruines, romans ruines, perché Coimbra era fondata da romans. While this statue we already seen just a few minuti ago, it's tributo a Dom Genius, it's the king who created the University of Coimbra, who established it in Lisbon and then moved it in Coimbra. And nothing, this is just a little review of Pollo 1 of the University of Coimbra. E' nulla, questa è una semplice visita del Polo 1 dell'Università di Coimbra. Con la pubblicità di Chimica, un taxi. E' in fondo, il padre dell'Università, e la torre dell'Università. Grazie! Grazie a tutti.